Ciao ragazze qui al mio canale Giovanna Caliso Tinteso Creatività ecco qui un altro trailer La ragazza dei miei sogni che uscirà il 26 gennaio 2017 buona visione a tutti con il trailer tu l'hai seguita in guarda la notte come un maniaco solo perché pensi che è la stessa che sono nata questa ragazza è talmente perfetta che assomiglia alla ragazza dei miei sogni tu cerchi altro tu cerchi l'incanto però pensi che sia una coincidenza che ci siamo incontrati dopo tutti questi anni proprio quando hai conosciuto mi vedi queste simbole? sono ovunque l'incanto è ovunque devi solo imparare a guardare Sofia me l'ha detto che ci ha provato con lei quelle come Sofia fanno così ti prendono nel sonno e ti rubano l'incanto tu Sofia non la vedrai né ora né mai quando ti succederà qualcosa di strano fermati a dire qualsiasi cosa strana siamo besti fatte di sogno, amore mio ed è arrivato il momento di svegliarsi ciao ragazzi è qui al mio canale Giovanna Caliso ti interesso creatività ecco qui un altro trailer La ragazza dei miei sogni che uscirà il 26 gennaio 2017 buona visione a tutti con il trailer ma mi capirebbe un'altra cosa tu le insegna mi guarda la notte in compagnia solo perché pensi che è la stessa che sono nata questa ragazza è talmente perfetta che assomiglia alla ragazza dei miei sogni tu cerchi altro tu cerchi l'incanto tu però pensi che sia una coincidenza che te ci siamo incontrati dopo tutti questi anni proprio quando hai conosciuto mi vedi queste si imbacchia sono un uomo l'incanto è un uomo devi solo imparare a guardare Sofia me l'ha detto che ci hai provato con lei quelle come Sofia fanno così ti prendono nel sonno e ti rubano l'incanto tu Sofia non la vedrai né ora né mai quando ti succederà qualcosa di strano fermati a te qualsiasi cosa strana siamo besti fatte di sogno pure mio ed è arrivato il momento di svegliarsi grazie a tutti 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 Grazie.